zuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo in un nuovo video log bello imponente come sempre ovviamente con più roba diciamo tutta questa roba appartiene a tre persone differenti però però che fai non fai un bel video unico corposo con un sacco di roba sì però ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di carte ragazzi le carte sono la più grande dipendenza dell'umanità più della cocaina quindi ovviamente se volete spingere su questa vostra dipendenza vi ricordo che trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto hanno i link in pre vendita piatti ragazzi perché c'è tanta roba interessante stessa cosa ragazzi per jack store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese hanno one piece yugi e basta poi hanno i fan con le sleeve interessanti e tanta altra bella robina che potete trovare sul loro sito ovviamente referral link e codice sconto in più se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatevi mandatemi le foto se c'è roba interessante se ne può parlare sempre se ne parla sempre ragazzi se no io non mi ritroverai tutte le volte a comprare carte quindi scrivetemi su instagram detto questo adesso ragazzi andiamo a vedere cosa ho comprato e dove ho dilapidato il mio stipendio di nuovo bene ragazzi abbiamo anche a questo giro tre bei pacchettozzi per non farci manca niente e facciamo un attimo piazza pulita allora abbiamo il primo pacchettino che è il nostro caro amico ovvero welly diciamo che la roba era già aperta lo so ma dove un attimo controllare che ci fosse tutto per pagarlo quindi l'ho aperto e vi faccio vedere cosa c'era abbiamo la monetina del blue eyes che non è male quella dell'ics sta tipo una trentina d'euro perché blue eyes ma vabbè poi abbiamo un po di cartine simpatiche con le lamin cars di dragon ball che ovviamente andranno a prendere il cestino con anche le lamin cars nuove ma non valgono un cazzo queste nuove non valgono un cazzo beh no beh no sono uguali gli stavo dicendo sembravano più belle quelle di una volta però che roba strana vedere le lamin cars nel 2024 di dragon ball poi il cazzo facevo delle elementari quando c'è stavano la serie rossa serie oro mi sembra ma vabbè altri tempi buttiamo via sta roba e controllamo cosa mi è arrivato allora abbiamo sto bellissimo dueller poi essenza antimagia foolish che ha visto tempi migliori super poli che tanto l'hanno annunciata annunciato la ristampa nella rai 3 grazie conami poi abbiamo i controllo l'avversario red raptor roba purelli roba a caso ma questo carino che è quarter a quanto sta un euro poi abbiamo gilty così mezza simpatica questo in francese vabbè poi per il resto vabbè l'araldino quarter ci sta questo ci sta altra roba purelli dullangostrica voglio perché ho preso sta roba perché gli ho avuti quei soldi qua abbiamo tutto il resto di purelli e basta sia la mosto access code d'etco american che ci sta e typhoon così tanto per e questo lotto lo possiamo mettere via diciamo la roba più interessante a questo giro forse la monetina che se riesco a pezzarla su vinted è tanta roba se qualcuno è interessato mi scriva su instagram andiamo col secondo che voglio fa quello grosso quello più grosso di tutti e vediamo se mi dà delle gioie che qualcosa mi ricordo qualcosa no capiamo un attimo cosa mi è arrivato allora abbiamo uno due e tre allora bello il team il team di neos l'unica cosa che c'ha sto schifo attaccato sopra se non avrei messo insieme agli altri team ma vabbè questo vediamo se c'è qualcosa interessante dentro sembra tutta roba boh vintage semi vintage boh carino il nobiluomo lo scambio dopo darò un attimo una controllata per vedere effettivamente cosa c'è dentro perché boh qua ci potrebbe essere qualche ci potrebbe essere qualche cartina carina dai su comunque roba è roba abbastanza vecchiotta poi a parte vabbè mettiamo via tanto se ne riparlerà dopo andiamo con questo team che mi ha detto che ci sono delle foil e capiamo che foil mi ha mandato questa era robina extra che mi ha mandato che mi ha detto che dovevo fidarmi che c'era roba carina è qualcosina uh bellissimo sto scendo a store dai partiamo bene partiamo molto bene non sta tanto però comunque è una carta che fa piacere trovare poi abbiamo iaichi roo zangi vabbè questo anche tutte comunacce impicciolire neos la riflessa da dp yg androsfinge gilford inferno vabbè queste tutte comuni nitro guerriero ben teinen sembra anche tenuta bene a te lei anche vincolo di potere peccato che qua un po mangiato vabbè qua tutte comuni armatura sakuretsu carina neos carino questo sembra anche questo tenuto bene in prima edizione che quella roba c'ha un valore se è nm pulito difficile non credo però alla fine fa sempre piacere anche questa carina dovrebbe sancazzo però che questo il segno a gorze è carino bellissimo questo fa piacere questo è veramente top in ita cavolo 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 ragazzi che sfiga che sì che c'è una piega non dovrebbe sta niente però è veramente bello peccato però grazie questo fa piacere top poi abbiamo ecco sono tutte sleeve a caso e vediamo questo ultimo blocchettino se sono comuni o se c'è qualcosa di interessante allora sono tutte comuni spade mistificatrici carina vabbè diciamo cose grossissime non c'erano però diciamo il drago bianco blu da pc y non fa piacere dai adesso devo recuperare il drago nero mi sembra ci sia e il anche il mago che non c'hanno i classici artwork ma diciamo l'alternative adesso andiamo alla roba grossa come vedete questo è l'album degli iro dentro c'è roba iro mettiamola così c'è anche roba iro andiamo ad aprirlo e ma ragazzi 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 che roba bellina c'è robetta interessante è peccato per lo sbrego che c'è qua davanti però era proprio una bella carta andiamo a vedere adesso un attimo di più importanti questo drago cyberoscuro che sta all'incirca sui 130 euro allora si è un excel lente ha messo benino vabbè ci sta c'è una pressione di troppo però dai è un excelente che mi possa accollare poi andiamo sul neo stempesta neo stempesta un po così c'è qualche pressione troppo queste ok anche sul retro c'è qualche pressione vabbè comunque all'epoca non le carte non si trattavano bene bisogna considerarlo poi abbiamo queste raklinos che ragazzi è un ultimate dai questo anche questo è molto carino c'ha dei difetti nell'angolo in basso a destra in alto a sinistra però mi piace vediamo questo eroe malvagio alla infernale il front è messo molto bene vediamo il retro vabbè il retro me lo aspettavo ha dei punti bianchi un po su tutti i lati però anche questo è un excellent e poi vabbè insetto sega elettrica poi qua iro a caso nova master anche questo carino e di tagliata graso carina prisma nooo ragazzi vabbè a parte sta roba gb che è molto interessante anche retiari carino ma il bestiari bestiari ha visto giorni migliori è peccato peccato poi guardiamo questo arcidemone drago rosso rovinatello poi abbiamo quest'altro da ct questo è un excellent questo era un excellent e poi sono comparse queste due pieghe poi qualcosina pensavo molto meglio è questo polvere invece sembra bellino il beck non è anche questo pur mamma mia disastro qua abbiamo poi i gradatori bestia qua il carro carino che ce n'è uno secret 2 super exodia trago media l'emergenza che mi manca anche se non non è american sfortunatamente e poi per il resto una super poli drol e robetta così sono un po deluso un attimo su neostempesta che speravo messo meglio e sul polvere però per nel complesso ci siamo c'è robetta carina mi dispiace un po per storia di ali perché ha visto tempi sicuramente migliori e vabbè passiamo adesso ragazzi al terzo apriamolo che vi faccio vedere cosa c'è dentro che qua c'è puzza di roba competitiva eh e puzza di staple non lo so che la butto lì oh ragazzi e qua se gode tiriamo fuori un po di carte che vi faccio vedere tutto eh ovviamente l'ordine sarà andato già a farsi fottere però tanto abbiamo un bellissimo piccolo cavaliere eh allora tiriamo fuori uno e due poi queste le prendiamo dopo abbiamo qua due drol ci sarà anche il terzo un'anima abbandonata mascherena magnemoth druiswurm tre ferrir onestissimi questi abbastanza buoni stanno una ventina d'euro l'uno e i druiswurm se non ricordo male 15 poi abbiamo tre bella poi tre fantasmei fantasmei il lutto eh due sì no tre secret onesto è tutta roba da rarity anche droplet tutte e tre da rarity talento un po deluso da Mirko prendi le secret a questo punto dai su poi ricastro che questa me puzza dei rarity 3 mettiamola così poi può essere me sbaglio e poi andando avanti abbiamo una melodiosa credo ci sia tutto il mazzo dark ita apollusa unicorn secret access code gold facciamocelo andare bene garura da gustapelia fango drago veleno affamato tre necrovalli top tutte e tre da d'usa tre affascinato libro della luna anche questi secret abbiamo cali c'era i jackie selene secret già le tre desideri i giudizi common peccato un corvo ultra un altro drol altri altri tre drol un altro fantasma in lutto zeus iscrizioni buco nero calice ok qualcosa cosa poteva realizzare un pochino più è prima di dammelo visto un bel drol secret ho visto anche corvo secret e già situazione migliora altri fantasma in lutto maledizione cheldo beh cose a caso buttate nel mezzo tanto per ciclone cosmico spolverino fulmine rivalità castile unicorn vabbè c'era ferri vita un altro unicorn lui che è bello onesto bisogna fargli fare un volo subito tre veiler secret ragazzi quanto sono belli veramente incredibili in permanenza orco fantasma fioritura prosperity anche questi carini questi interessanti visto che escono i fiendi schmidt ma vabbè dettagli poi abbiamo tre barriere tre corvi ragazzi che sono incredibili secret nulla da dire poi tiriamo fuori un'altra po di roba e qua vedo i drol e questi sono proprio belli drol spolverino secret scontro army pie secret altri fulmini tempesta questa è tutta la roba melodioso l'araldo va beh le altre dive melodiose vabbè ok questi 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 sono importanti sono le carte ovviamente più costose del mazzo attualmente che stanno a 20 euro l'uno poi tre ostinato tre la cantante melodiosa anche questo controller armonista e qua tutte le fusioni vabbè e poi tutte le fusioni andando avanti abbiamo tre dipendamento secret un ciclone una super poli spero ne scappino fuori altre due tanto per fare i playset belli potenti allora abbiamo un ciclone un'altra super poli altro ciclone un'altra super poli stalo certo poi cose a caso poco rilevanti il di golem di lava shifter anche questo buono poi gammesiel nibiru donner vabbè numero 101 poteva essere ultimate poteva o essere le secret da gauve poi abbiamo il barone accident secret dai mirko ti hai dato la pazza gioia che gli acquisti eh tutta roba bella onesta poi piero assorbi potere numero 41 rivalità tempesta e senza secret carino peccato che mono sono c'è stata poi un cowboy raro strano mai visto è punto pecora poi se un paio di segna mostri cambiare idea il vortice dweller poi i tre giudizi solanni secret questi belli proprio belli scontro goza in limite alla scontro goza in limite risucchiabilità e basta tutto tutto bello tutto nella norma peccato un po per la fragrance che è mono secret però che ci posso fare niente e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate cosa vi serve perché sta tutto sul market trovate il link in descrizione e ovviamente detto questo ragazzi voi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao ciao a tutti